Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, Solidity, ancora una volta dobbiamo parlarne, perché secondo me, se ancora non siete dentro, è perché ancora non avete compreso. Mamma mia. Allora, 22.953, adesso io aggiorno, 22.953 euro. Vi faccio vedere anche il mio conto FPMarkets, se non mi dite che dei semplici screenshot, come potete vedere, io condivido i miei risultati nel gruppo Telegram, MaracopiForex, se sei interessato a guadagnare passivamente, davvero senza fare niente e senza grossi rischi, ti invito ad entrare, MaracopiForex entra nel link, secondo link in descrizione entra nel gruppo, scusami, e ricordatevi che mercoledì, questo mercoledì, dopo domani, 27 novembre alle 19, c'è la live con tutti i fondatori, con tutti i fondatori, con Cristian e Luigi, Luigi è colui che, diciamo, ha creato questi bot perfetti, perfetti direi io, vedete, stanotte 102 euro, mentre dormivo, arrivati, settimana partita alla grande su Solidity, direttamente dal mio conto, i miei 21.595 euro investiti su Solidity sono praticamente quasi diventati 23.000 euro in un mese e mezzo, senza fare niente. Ho iniziato il 10 ottobre, chi mi segue lo sa, chi mi segue sa, ho fatto un sacco di video, ve li metto qui nelle schede, ma li trovate anche nel canale, ho investito prima 1.992 euro, se non ricordo male, e poi ho fatto un altro versamento un po' più cospicuo, fino ad arrivare a un totale di 21.595 euro, che ad oggi, i 25 novembre, quindi 10 ottobre, 25 novembre, diciamo un mese e mezzo, sono diventati quasi 23.000, senza fare niente, ragazzi, stiamo parlando di 500 euro ogni due settimane, 1.000 euro al mese, pazzesco, pazzesco, vi ricordo che funziona se volete agganciarvi ovviamente il gruppo Telegram in cui vi invito a entrare, secondo link in descrizione, è diviso in sezioni, nella chat potete fare domande, ci sono anche Luigi, il trader che ha creato i bot, e Cristian, il responsabile marketing, ma anche tutti gli altri ragazzi del team che vi danno assistenza, vi aiutano, nella sezione risultati potete vedere tutti i risultati, e nel primo post ci sono tutti i link che riguardano praticamente, che ormai sono un po' andati sepolti, adesso io voglio fare una cosa qui in diretta con voi, comunque spulciate la pagina dei risultati perché ci sono tutti, 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 tutti i risultati, ecco, questi link qui, adesso io faccio copy text e li rimetto, qui, così entrate e in risultati avete, magari faccio pure pin, così piniamo e facciamo una notifica a tutti, ok, quindi avete lo storico reale certificato, backtest di 6 anni, risultati dal 2018-2023, vi ricordo, Solidity, sono due bot che operano, creati da Luigi Mattei, che operano sul Forex, operano e chiudono operazioni, con una strategia veramente che da 18 mesi reale non crea nessuna perdita, nessuno, tutti stanno guadagnando ed è semplicissimo, ti agganci e non devi fare niente, fanno tutti i bot, da 18 mesi non perdo, l'ho fatto dei test, da 2018 al 2023, al 99% attendibili, se è Solidity, sono proprio i 5 anni di riferimento che ha preso Luigi per creare questa strategia e ricordiamoci che sono dati oggettivi, cioè c'è della stagionalità in Solidity, nel senso funziona guardando, analizzando, ha fatto un lavoro incredibile, Luigi Mattei è giovanissimo, ma un trader che se ne sentirà parlare tantissimo, perché ovviamente del futuro nessuno ha i risultati, però passerà il tempo, sono passati 18 mesi, passeranno 5 anni, magari io mi auguro che mai lo stop loss verrà preso, quindi tutti, tutti gli investitori in Solidity staranno guadagnando e sarà un qualcosa di incredibile, una performance che verrà veramente ricordata nella storia, quindi se volete far parte della storia, entrate secondo link Maracopi Forex e veramente voi non state capendo se ancora non siete dentro, l'unico motivo per cui non siete dentro è perché non state capendo, cioè non vedo altri motivi, chi è dentro è fomentato, vedete nella chat, guardateli, ve li faccio vedere, oggi è un buon lunedì, buongiorno, non è partita male, buongiorno, tutti felici, io pure, settimana partita della grande, direttamente dal mio conto, 102 euro, stavamo dormendo ragazzi, quindi voi non state capendo, è tutto qui, perché non è copy trading, non è quella roba che il trade, cioè siamo al punto che se voi vi mettete, cioè è più sicuro Solidity di voi che vi mettete a fare trading, cioè è tutto pericoloso là fuori, l'unico modo davvero, per una persona che non conosce, che non è un trader, che non vuole appassionare, non è appassionato, non vuole fare trading, non vuole oppure che ci ha provato, ed è difficile, perché è difficile, quando vi dicono che il 90% delle persone perde soldi sui mercati finanziari, è vero, ok, però c'è un ragazzo che ha messo, che invece sta dall'altra parte, che guadagna, che aveva creato questi bot per se stesso, e che poi ha deciso di, indovinate un po', per guadagnare di più, perché loro prendono una commissione, ovviamente vi fanno guadagnare, c'è un 50%, cioè ci rendiamo conto di che cosa ha creato, cioè noi guadagniamo il 2% di media circa strategia, quindi adesso c'è OutCAD e GBPNZD, se sono tutte e due messe in un unico conto, vi fanno il 2% ciascuna, quindi un 4% al mese, su 20.000 euro, prendendo l'esempio mio, come di tanti altri, sono 800 euro al mese, senza fare niente, mettete i vostri soldi a lavorare, senza grossi rischi, ovviamente lo stop loss può venire, ricordiamolo, lo stop loss è al 30% sul conto, però a coppia, quindi può succedere, potrebbe succedere, ma non è mai successo in 6 anni, considerando anche i test, però sono due strategie scollegate, cioè decorrelate, quindi è davvero improbabile che si prenda lo stop loss contemporaneamente a tutte e due, quindi diciamo che rischiamo un 30% del conto, ma informatevi, cioè guardate i dati, nella sezione dei risultati, potete vedere lo storico reale certificato, la statistica delle durate delle operazioni, come funziona la strategia con le mediazioni, i risultati dal 2018 al 2023, non dovete credere a noi, dovete verificare, e dati alla mano, poi prendete una decisione, io non sono un consulente finanziario, non sto dando consigli finanziari, ma sto solo condividendo la mia esperienza, e facendovi vedere i guadagni, che sto facendo, e condividendo, poi se volete entrare, secondo link in descrizione, Maracopi Forex, vi ricordo, entrate, perché poi mercoledì, alle 19, il 27 novembre, alle 19 facciamo la live, e potete fare domande dal vivo, ora, se non state entrando, perché non avete capo, compreso, qui non stiamo parlando di fare trading, cioè, ripeto, stavo dicendo, se voi vi mettete a fare trading, è molto più pericoloso, cioè, se copiate, di solito il copy trading, no, l'abbiamo visto, nelle crypto, negli exchange, ci ha bruciato conti su conti, questi, non, questa roba, io non so come farvela trasmettere, la dovete vivere, perché vi dovete, vedete, andate su guida, il copy trading, vedete tutte le istruzioni, per iscrivervi, dopodiché, vi scaricate, metate il 4, e avete, diciamo, questa roba qui, potete vedere tutte le operazioni, e dovete viverla, dopo un mese, che siete dentro, cioè, non ne potete fare più o meno, anche quando, magari, il mercato va contro, ti apre 5 mediazioni, comunque, io l'ho vissuto, cioè, se, la prima volta, forse, dici, ma che sta succedendo, ho visto, meno 2 mila euro, però, stiamo parlando di un meno 10%, che è il nulla, soprattutto, chi viene dal mondo delle cripto, che è abituato a fluttuazioni, devastanti, qua, basso rischio, il massimo drawdown, nel 2024, il 14%, cioè, ripeto, se non siete dentro, non avete compreso, quindi, vi consiglio, come dico sempre, entrate nel gruppo, secondo link, magari vi guardate risultati, e poi provate, cioè, sospendete, cioè, non ci credete, e provateci, potete, affinché tutto funzioni, bastano anche solo 500 euro, e vedete con 500 euro come va, resterete folgorati, io lo dico per voi, perché una volta che siete dentro, cioè, questa roba, ovviamente, siamo nel campo degli investimenti, quindi, lo stop loss potrebbe arrivare, il 30%, ma, sto rischiando solo 6 mila euro, su 20 mila euro di capitale, ci sta, ne sono consapevole, e poi, ricordiamoci, che prendono il 50%, ma se prendono lo stop loss, finché non si recupera, non si prendono niente, quindi andiamo al doppio della velocità, cioè, noi metti che domani prende lo stop loss, e ce ne vuole, oh, il massimo drawdown, credo nei test, sia stato del 23%, e nel 2024, il reale, credo dal giugno 2023, che è in reale, 18 mesi, il massimo è stato, il 14%, è tutto nei dati, guardate, non dovete credere a me, verificate, guardate i dati, ovviamente, i risultati passati, non sono garanzia, ma non c'è, dei risultati futuri, non c'è garanzia negli investimenti, però guardate questi dati, e ditemi voi, ci sono, anche, agganciati, cioè, è molto più di un copy trading, siamo arrivati a 15 milioni, che, sono agganciati a questi bot, che, tra, privati cittadini, e fondi di investimento anche, quindi, gente del settore, perché, quello che secondo me non passa, che anch'io pensavo, è che la gente pensa, eh no, si perdono soldi in borsa, ragazzi, gli investimenti, la borsa, siamo nel mercato del forex, abbastanza stabile, decorrelato da notizie, è una roba, che ti produce soldi, ogni santo giorno, per come è stata studiata, ti produce soldi ogni santo giorno, e voi vi dovete ficcare in testa, che qualcuno là fuori, molto più, in gamba di noi, sta guadagnando dalla borsa, mentre noi tutti perdiamo, banche, istituzioni, governi, moltiplicano i loro soldi con la banca, con gli investimenti, adesso però, con Solidity possiamo farlo anche noi, semplicemente agganciandoci, io sono rimasto, sempre rimango basito, i miei 21.595 euro, qualcuno è entrato? Ciao Raffaele, benvenuto, entrate ragazzi, sono diventati 22.953, secondo me, non lo stai capendo, se non vuoi neanche provarlo, non stai capendo, che questa è una roba, incredibile, puoi stare dalla parte, come ho già detto, dalla parte giusta del mercato, da chi guadagna, ed è una, diciamo, ed è per tutti, ed è gratuito, perché ti fa guadagnare, soltanto, se ti fa, cioè, ti fa, lo paghi, solo dopo che hai guadagnato, sai come, quando ti dicono, dammi quelli che vendono i corsi per guadagnare online, compreso io, uno viene e mi dice, allora, dammi il corso, quando guadagno poi ti pago, io gli dico, no, cioè, io vendo il corso, se, in questo caso, Luigi Mattei, ha detto sì, Luigi Mattei ha detto sì, qualcuno sarà andato da lui, e dice, vabbè, dammi il bot, poi quando io guadagno, ti pago, allora, è quello che succede, perché tu ti agganci, qui guida il copiletto, i trading, segui tutte le istituzioni, sei dentro, quando guadagni, boom, loro si prendono il 50%, che poi, lo ridistribuiscono ai partner, per chi vuole fare business online, è un business dalla madonna, guardatevi anche il video, ve lo metto nelle schede, il miglior business del 2025, l'ho spiegato, potete anche promuoverlo, perché di quel 50%, in realtà, il 10% va a Solidity, e va a Solidity, a Luigi, Christian, a chi ha creato il sistema Solidity, l'altro 40% viene distribuito tra i partner, cioè, tu fai entrare qualcuno, e guadagni il 15% dei suoi profitti, ma non gli togli niente, lui guadagna sempre il 50%, no? Perché è Solidity che ti dà, e quindi, promuovere Solidity è un business della madonna, quindi il mio consiglio, anche da questo, di analizzare questa cosa, anche da questo punto di vista, quindi la prima cosa che dovete fare, è provare Solidity, toccare Solidity con mano, vi agganciate, secondo link in descrizione, lo provate per un po', e poi se volete promuoverlo, mi scrivete qui in privato, cioè, mi trovate in chat, e vi spiego come fare, però in primis, quindi, tu, tu, che entri adesso, guadagni, cioè, Solidity guadagna, solo se tu guadagni, tutti guadagno, tutti promoter, Solidity stesso, tutte le persone che sono agganciate a Solidity, tutto funziona, non è che guadagni sui depositi, sui percentuali nascosti, il broker, FP Markets, è un broker, che non fa da controparte, quindi sta dalla tua parte, tutti stanno dalla tua parte, tutti hanno interesse che tu guadagni, perché loro guadagnano, su ciò che ti fanno guadagnare, eh, ripeto, se non sei dentro, è perché non hai compreso, la bellezza di Solidity, eh, il guadagnare passivamente, il far lavorare i soldi, credetemi, un 4% al mese, è tantissima roba, considerando i pochi rischi, che si corrono, dovete comprendere tutto questo, perché quando l'avete compreso, e poi entrate, perché se non siete ancora entrati, voi non avete compreso la grandezza, e quando arriverà la terza strategia, l'Euro, Euro, cf, Euro Franco, Svizzero, credo, nel 2025, si sommerà un altro 2%, quindi si arriva su un 5-6% di media al mese, netto per voi, che mettete i vostri soldi, ovviamente di garantito non c'è niente, c'è sempre il rischio dello stop loss, però non è stato preso in sei anni, poi qualcuno dice, ah, se prendi due o tre stop loss di fila, oh, il primo ancora non riusciamo a prenderlo, in sei anni, dovremmo prenderne due o tre di fila, io credo che sia veramente a basso rischio, ecco perché ho messo, 21.595 euro e molto presto aggiungerò capitale, perché è una bomba, se siete interessati, entrate nel gruppo, nella chat potete fare domande, nella sezione risultati vi guardate tutti i dati, nella sezione guida ci sono le istruzioni per agganciarvi, vi ricordo che domani, alle 19, non domani, il 27 novembre, quindi mercoledì 27 novembre, alle 19, c'è la diretta, la live con i fondatori, che vi spiegano tutto l'ecosistema, e potete fare domande dal vivo, quindi mercoledì 27 novembre, alle 19, entrate nel gruppo Maracopi Forex, e provate Solidity, ci vediamo dentro, con tutti gli altri, ci vediamo ad un prossimo video, ciao!